La proposta per il bonus terra depositato in Cassazione da Terre Ioniche è il provvedimento per l'istituzione di un incentivo per l'agricoltura. E parliamo di agricoltura. I comitati Terre Ioniche e Altra Agricoltura hanno depositato in Cassazione una proposta di legge per l'istituzione di un bonus terra che le regioni potranno regolamentare in autonomia. Deborah Verde. Una legge per la costituzione di un fondo nazionale alimentato da una serie di proventi legati all'uso delle risorse naturali ed energetiche che le regioni potranno utilizzare per regolamentare gli interventi a favore delle comunità e dei territori a rischio idrogeologico e da inquinamento ambientale. E' questa la proposta di legge ed iniziativa popolare che il comitato Difendiamo le Terre Ioniche e il sindacato Altra Agricoltura ieri hanno depositato in Cassazione. La legge su bonus terra chiede l'istituzione di un quadro nazionale in cui siano possibili dei fondi regionali per il riassetto idrogeologico, per la bonifica delle aree inquinate, per gli interventi diretti alle persone in difficoltà e per azioni positive di promozione sul territorio. La proposta di legge prevede anche l'abolizione del bonus carburante che secondo Gianni Fabris è stato ormai praticamente sottratto alla possibilità di essere usato dai residenti in Basilicata. Ma gli esponenti dei comitati ieri hanno anche incontrato i parlamentari lucanico, Simo Latronico, Antonio Placido e Francesco Coviello per illustrare il testo e coinvolgerli nell'iniziativa. La raccolta delle 50.000 firme necessarie alla presentazione della legge in Parlamento dovrebbe iniziare a settembre.